allora ciao Winnie76 ho scaricato il tuo file e effettivamente tu puoi creare l'intreccio su questi vettori che se li selezioniamo uno e poi l'altro vedi che sono due vettori che si intrecciano credo che la migliore soluzione sia quella di fare l'intreccio su una distanza un pochettino più lunga rispetto a ciò che andremo a fare come arco che è questo qui ne facciamo un piccolino ok allora se noi selezioniamo prima questo e poi questo qui e andiamo a considerare una distanza che va più o meno di qua a qua quanto sarà vediamo più o meno di qua quindi circa 13 o parei anche di 10 mm dovremmo risolvere il problema vediamo come fare in maniera semplicissima quindi selezioniamo prima uno con l'altro poi selezioniamo naturalmente il profilo che abbiamo creato ok ho fatto già delle prove come vedi intanto togliamo questa spunta sul relativo di cross section ci mettiamo 10 e facciamo 60 di superiore per esempio 60 di inferiore poi ti divertirai tu praticamente a lavorare su questi parametri potresti anche mettere zero qui non ci sono problemi scusami ho il contrario insomma ti fai tu un po' di prove facciamo ok e vediamo che cosa ne viene fuori allora in questo caso vedi credo che abbiamo ottenuto l'effetto che vi voglio se questo comincia a scendere vedi prima penso si veda bene magari possiamo fargli anche un reset mettiamo un profilo maggiore così capiamo meglio allora per esempio facciamolo più ben dimensionale così ecco questo è un po' più grande e andiamo a selezionare nuovamente i vettori incriminati proviamo a fargli per esempio se facciamo qui 70 e qui magari gli mettiamo 0 probabilmente con 10 uscirà una cosa perché vedi in realtà è questo che sormonta il primo quindi tu non potrai mai vedere siccome non sono diciamo intersecati in maniera che un cerchio interseca l'altro quindi tu qui che cosa vedi vedi che questo qui scende e poi sale ma in realtà questo ti rimane vedi questo qui ti rimane quasi diritto non è successo nulla tu in realtà vorresti una situazione questo deve scendere giù ma questo qui dovrebbe salire ecco perché io ho scelto di fare praticamente quindi ctrl z di optare per la soluzione per esempio può essere 70 70 con 10 vediamo cosa viene fuori ecco vedi adesso il discorso cambia perché questo sormonta questo qua e questo va sotto e credo che questa soluzione per te dovrebbe essere la migliore ok poi naturalmente ti vai a fare le altre lavorazioni sugli altri vettori questi non mi piacciono molto li hai sicuramente ricostruiti da un rilievo un po' bruttini li aggiusterei un pochettino vabbè spero che ti sia tutto d'aiuto e che questo era ciò che cercavi ok ciao ciao e alla prossima